Antonino, primo impegno del girone di ritorno del 2024 per la top spin Messina, arriva a Norbello a Villa Dante ed è una sfida da zona playoff. Sì, domani sicuramente ci aspetta una partita molto dura contro una squadra che se porterà tutti i suoi giocatori migliori dispone comunque di due tra gli stranieri più forti del campionato. Quindi sicuramente siamo ben consapevoli che ci aspetta una partita molto dura. All'andata è finita in pareggio con loro una grande battaglia durata quasi quattro ore. Sappiamo che sarà una partita dura, però noi ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora di cominciare al meglio questo 2024 e questo girone di ritorno. Volete logicamente tornare alla vittoria, qual è il giudizio sul girone di andata e qual è l'auspicio per questo girone di ritorno che comincerà appunto domani? Allora, sicuramente il girone di andata non è andato come volevamo, speravamo di raccogliere qualcosa in più, un po' per demerito nostro, un po' per merito degli avversari, ma sicuramente potevamo e dovevamo fare di più. Useremo queste sensazioni appunto un po' di rammarico riguardo al girone di andata per trasformarle in benzina e darci la carica per fare un gran girone di ritorno. Eri stato assente forzatamente ai box in occasione dell'ultima gara casalinga di campionato con la Bagnolese, quali sono le tue condizioni adesso, qual è il tuo momento dal punto di vista personale? Allora, io mi trovo in un ottimo momento, ero stato male e per colpa dell'influenza ho dovuto saltare sia la partita con Bagnolo che la Supercoppa, la cosa dentro mi ha bruciato molto devo dire. Qualche settimana dopo, circa a fine dicembre, ho giocato un ottimo torneo a Biella che mi ha dato molta fiducia. Sinceramente non vedo l'ora che arrivi domani perché tanto che non gioco una partita di campionato e tanto che non gioco alla Topspin, cioè in casa qui alla Topspin, sono molto molto carico, mi sento bene e non vedo l'ora di scendere in campo domani. E poi con la spinta dei tifosi per te è sempre un'emozione particolare qui? Eh sì, io mi sento molto a casa qui e anche la partita con Carrara in cui ho lasciato due punti contro Puzza e Gagina ho fatto una grande prestazione, ha anche aiutato soprattutto, uno, dall'emozione del rientro alla Topspin, ma due, come hai detto tu, dal pubblico che per me personalmente, che sono un giocatore molto focoso, sai, sento molto la partita e mi piace la carica, quando c'è l'atmosfera giusta da parte del nostro pubblico per me è un fattore in più.